Ciao ragazzi, bentornati! Come state? Tutto a posto? Bentornati su MV Arduer, il canale di Marco Verdoliva Siamo insieme oggi straordinariamente di domenica perché in questi giorni ho avuto un po' di cose da fare, ho avuto ospiti a casa e prima di iniziare con il video di oggi, che già dal titolo è un video un po' come dire, che vi mette un po' di hype vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare ovviamente tutte le campanelle con le varie notifiche inoltre, giù in descrizione, cosa molto importante, troverete il link al nostro canale Telegram delle offerte perché vi dico di entrare nel canale Telegram delle offerte? perché nonostante il momento non sia uno dei migliori per fare acquisti, soprattutto lato GPU ogni tanto riusciamo a trovare qualche cosa stamattina per esempio le 1650 Super da Amazon UK ad un prezzo decisamente interessante quindi mi raccomando entrate nel canale offerte anche per quest'anno ragazzi il nostro sponsor è Sidikideaz il portale dove potrete trovare chiavi di Windows 10 Office, giochi e tanto altro vi basterà infatti creare un account accedere e cercare quello di cui avete bisogno nel nostro caso una bella chiave di Windows 10 Pro in super sconto basta aggiungerla al carrello inserire il codice sconto MV20 per avere il 25% di sconto avete capito bene? MV20 e vi porterete a casa Windows 10 Pro a soli 13,57€ scegliete il pagamento che più vi è comodo e una volta terminato vi ritroverete la chiave nel vostro account personale per attivare Windows vi basterà poi andare in impostazioni aggiornamento e sicurezza attivazione e incollare lì la vostra chiave per attivare definitivamente il vostro sistema operativo Sidikideaz, tutti i link in descrizione allora nei giorni scorsi, nei video scorsi abbiamo parlato molto e in maniera approfondita del 12600K e del 12700K due CPU che sotto tutti gli aspetti a me personalmente mi sono piaciute tantissimo sono delle CPU effettivamente che Intel ha proposto sul mercato ad un giusto prezzo e che effettivamente con la controparte AMD vanno a lottare per così dire in maniera degna 12600K a mio avviso best buy in questo momento 12700K una CPU che è veramente potente e che ha un ottimo rapporto qualità prezzo rispetto al 12900K manca in effetti una grande incognita una di quelle CPU che secondo me saranno le CPU più considerate soprattutto per le build non proprio a inghend ma per le build di valore medio medio basso che è il 12400K e 12400F ovviamente nelle due varianti con essenza grafica integrata allora perché vi dicevo è una CPU che è molto attesa come dire c'è molto interesse perché in passato abbiamo sempre visto che per le build di una fascia media quindi sotto determinati range di prezzo CPU come il 10400F e anche in parte l'11400F sono state delle CPU compratissime io in primis ve lo consigliate ok sempre in tutte le salse laddove c'erano diciamo dei budget abbastanza limitati e soprattutto le abbiamo consigliate molto spesso rispetto ai Ryzen che su questa fascia costano qualcosina in più e non sempre offrono delle prestazioni come dire superiori ad un ipotetico 12400F come è stato per l'11000 e per il 10400F un processore che dovrebbe essere un 6 core secco voi sapete che Alder Lake ha questa architettura ibrida con P core ed E core il 12400F molto probabilmente stando a quelle che sono le informazioni che ci sono in giro dovrebbe essere semplicemente un 6 core 12 thread dove i core sono tutti dei core di performance quindi hanno eliminato quelli che sono gli E core un wattaggio che dovrebbe essere intorno ai 65 watt dichiarati ma che in turbobus dovrebbe toccare tranquillamente i 100 watt ora il 11400F e lo stesso 10400F quando sono stati lanciati sul mercato avevano dei prezzi abbastanza concorrenziali diciamo principalmente sotto le 220-200 euro per poi scendere mano a mano con il passare delle settimane molto si baserà sul prezzo di questo 12400F non appena noi lo vedremo sul mercato perché lo scontro diretto dovrebbe essere con il 5600X che è un processore che come sapete ha un costo di circa 300-315 euro a seconda dove lo comprate ed è uno scontro che quindi si dovrebbe diciamo combattere più che sulle performance che come vedremo in alcune cose sono abbastanza palesi ma soprattutto dal punto di vista del prezzo perché se un 12400F viene a costare 80-90-100 euro in meno al 5600X capite che ci può essere veramente qualcosa di interessante riguardo tutte le build di fasce sotto magari le 7-800 euro GPU permettendo io sono riuscito a trovare dei test ok? su questa testata giornalistica che è una testata francese che è Contain Hardware dove in pratica vengono un po' mostrati quelli che sono i benchmark sia del 12600 12700 eccetera eccetera ma c'è anche il 12400F in tutta una serie di bench soprattutto lì dove vengono sfruttati il single core quindi la potenza bruta del core con la EPC il 12400F quasi sempre è su diciamo supera in maniera abbondante tra il 5 e il 10% le performance di un 5600X questo dato dovrebbe essere interessante per iniziare ad avere un po' l'idea di quelli che potrebbero essere poi le performance in game certo tutto questo dovrà poi essere confermato con dei test specifici fatti sui giochi però già per esempio vediamo punteggi in cpuzeta punteggi in cinebench r20 molto significativi e soprattutto che ci fanno pensare che in game probabilmente un 12400F rispetto a un 5600X dovrebbe essere una scelta abbastanza azzeccata perché qui si parla comunque che nei giochi le performance dovrebbero essere simili se non anche superiori discorso a parte invece per tutta una serie di applicazioni quindi compressione decompressione encoding video dove praticamente la parte diciamo cash L3 dei Ryzen in qualche modo riesce ancora a mantenere la supremazia su quelle che sono invece diciamo le performance dei 12000 e vediamo che il 5600X in molti test effettivamente supera abbondantemente le performance di un 10400F quindi è ovvio aspettarsi che almeno dal punto di vista della produttività quindi su tutti quelli che sono dei lavori dove il multicore serve maggiormente grazie soprattutto all'abbondante cash L3 di questi Ryzen sia ancora un primato che spetti ad AMD ma è molto interessante vedere come il 12400F invece in tutti quei processi che necessitano di potenza bruta di IPC e di single core vada in qualche modo meglio tutto come vi dicevo all'inizio di questo video ovviamente sarà interessante vederlo dal punto di vista dei prezzi ok e io non so precisamente quando questi processori quando il 12400F dovrebbe iniziare a essere reperibile sul mercato penso non appena saranno disponibili anche le schede matri di chipset minori ok che dovrebbero essere le B non lo so che tipi di B usciranno fuori ma molto probabilmente sarà una CPU che vedremo sicuramente qui sul canale non appena io avrò modo di procurarmele non appena sarà disponibile e niente quindi almeno da questo punto di vista teniamolo d'occhio ok e chi in questo momento ha intenzione di fare una build diciamo di fascia media potrebbe un attimino ok attendere prima di andare a diciamo colpo sicuro su qualche altra CPU io vi ringrazio se siete stati con me in questo video vi do appuntamento a venerdì perché questo martedì non usciranno video come sempre vi ricordo iscrivervi al canale e noi ci vediamo prossimamente ciao iscrivervi al canale Grazie a tutti.